Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In FIPILI in direzione Firenze si viaggia in coda per lavori in corso tra Empoli ed Empoli Est, in direzione Livorno traffico a rilento tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Ricordiamo che sulla FIPILI l'entrata Empoli Est in direzione Firenze resta chiusa per lavori nella tratta Empoli Est-Montelupo Fiorentino. Per questi lavori chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni. Sul raccordo siena a Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Pogibonsi Nord e Tavarnelle e tra San Casciano e l'allaccio con la A1 Firenze in Pluneta. La situazione della mobilità a Firenze. Si segnala in via Boccaccio blocco temporaneo della circolazione per incidente. Permane in via Pisana il blocco alla circolazione dovuto a uno scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!